il volante della nuova Kia Niro abbiamo il cruise control impostato a 80 km orari il limite di questa strada la vettura sta rilevando anche la presenza delle corsie bianche lungo la strada ed è in grado di girare da solo lo sterzo lo vedete, ovviamente richiede di appoggiare le mani ogni tanto ma volendo potrebbe già guidare da solo una vettura davvero molto tecnologica una tecnologia che avevamo già visto in parte all'interno della Kia Sportage Kia Sportage che invece non ha il modulo ibrido il modulo ibrido che invece si ritrova all'interno della Kia Niro che è una delle sue